It's time to play the game Time to play the game It's time to play the game Arma 3 Solo che poi i servers erano spariti E non potevo più continuare la serie che avevo iniziato Allora ragazzi questa intanto è la lobby Prepartita Vedete che in alto i giocatori si stanno connettendo Capirete adesso quanti cazzo di giocatori siamo Allora che cosa sono questi Battle Royale Praticamente oh mio dio c'è gente che va A fare i Monster Truck Che volo Comunque ragazzi che cosa sono questi Battle Royale Noi praticamente adesso verremo paracadutati In una mappa Nella mappa di H1Z1 Che cazzo parlano queste E dovremo cercare di equipaggiarci Trovando delle armi Trovando dell'equipaggiamento Che ci permetterà di Uccidere delle altre persone Guardate queste tipi accartellate Uccidere delle altre persone In modo tale da rimanere in vita per ultimi Insieme agli altri Insomma Vincerà chi rimarrà in vita per ultimi Capite che le proporzioni sono veramente gigantesche Guardate contro quante persone dovremo combattere Oltre alla difficoltà Ehm Gli altri giocatori che tenteranno di ucciderci Qui ci sono macchine che volano Ovviamente avremo una difficoltà dettata dalla mappa stessa In quanto verrà rilasciata Ad intervalli di tempo regolari Una nube tossica Che pian pianino Restringerà il campo d'azione Nel quale noi dovremo combattere Dunque veramente è una cosa fantastica Ok ragazzi Ci siamo Per essere paracolutati Anzi stiamo Cadendo giù Impicchiata La prima cosa da fare È individuare Un punto con delle Casette Con delle strutture Cosa che io attualmente Non Non sto assolutamente Vedendo Proprio Eccolo lì Perfetto Lì vedo Vedo una Zona industriale Sembrerebbe Dobbiamo essere veramente Molto Rapidi A cercare del loot Ecco Quello lì si sta già paracadutando E ovviamente Potrebbe mettercelo In quel post Dobbiamo essere velocissimi A luttare Non dobbiamo Perdere assolutamente Del tempo Ma La vedo dura Perché stiamo proprio Precipitati Molto lontani Ok adesso all'inizio Ovviamente le persone Moriranno veramente Molto Velocemente Perché Chi arriva al primo Ovviamente meglio alloggia E si arma E equipaggia Più velocemente Noi veramente Siamo messi Come i cani Quindi dobbiamo correre Come i dannati Ok ragazzi Adesso inizia Veramente il bello Dobbiamo assolutamente Trovare un'arma Nella maniera Più veloce Possibile Quindi Non perdiamo Molto tempo E cerchiamo subito Un'arma Allora Saliamo di Quota Troviamo un casco Che non ce ne facciamo Nulla Qui Ok Eccolo là C'è qualcuno Lì in alto Lì in basso Prendi questa pistola Prendi questa pistola Che non ci hai visto Prendi qualche colpo Eccolo lì Che sta lottando Ricarica Ricarica Sì Perfetto Abbiamo ammazzato Qualcuno Perfetto Mamma mia Quanto cavolo Ci è voluto Per ammazzarlo Perfetto Mamma mia Questa pistola Ci ha messo Veramente un sacco Per Ammazzarlo Ok vediamo che cosa Aveva trovato Questo maledetto Svadiamoci a terra Allora Cerca per il loot Aveva trovato Una molotov Fantastico Aveva una molotov Questo Una pistola Che noi Prendiamo Assolutamente Ok Prendiamo tutto Quello che aveva Questo che cos'è Oh mio dio Che schifo Della carne Ok Un Elmetto Tattico Che dovremmo avere anche noi Tra l'altro Noi ci mettiamo il casco Meditare Ok abbiamo Delle armi Verifichiamo che Non ci abbia sentito nessuno Ok siamo stati veramente Molto fortunati A trovare questo Essere umano Che stava luttando Via 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 Veloci Ok in quest'altro edificio Vediamo se è tutto libero Perfetto È tutto libero Ne approfitto un attimo Per vedere dove siamo Allora in bassa destra Leggiamo il settore G6 Noi siamo nel settore G6 Quindi siamo in questo Quadrante qua Probabilmente In questa zona industriale qui Allora in questa Modalità qua È possibile trovare un sacco Di armi Tra cui fucili d'assalto Come AK-47 M4 Se non erro Pistole di vario tipo Un arco Una balessa Se non erro Macete Armi da corpo a corpo Però ovviamente Le più ambite sono i fucili D'assalto Oltre che i fucili Da pompa Per chi preferisce Gli scontri Corpo a corpo Ok ragazzi Il prossimo compito È quello di attendere Che venga generata L'area Venga marcata L'area in cui Verrà rilasciata la bomba Tossica Per poi Spostarci di conseguenza Rimangono Vedete 69 giocatori E La situazione Molto ma molto Angusta C'è un silenzio Molto Assordante Ok È stata assegnata L'area ragazzi Noi siamo nel settore G6 Quindi siamo fuori Dobbiamo correre Come dannati Verso Ovest Proprio Di Una velocità Assurda In questa direzione qua Eccoci qua Con il nostro caschetto Da motociclista E il nostro Zainetto Purtroppo Stiamo spavati Molto lontani Quindi sarà una partita Della rincorso Dovremmo rincorrere L'area Per non finire Risucchiati Nella nube tossica Di colore verde Ok ragazzi Nel far questo Dovremmo anche Tra l'altro Attraversare questo Fiumiciatolo qui Non è mai Una bella cosa Ecco Mi sono anche Perito leggermente 89% di vita Ma va bene E' una E' una caduta Stupida Che ragazzi Dobbiamo correre Velocissimamente Verso Il settore Più vicino Per non essere Risucchiati Nella nube tossica Qui c'è un camper Dove è possibile Trovare anche del loot Già aperto Ovviamente Quindi c'è passato Qualcuno Oh mio dio Invece no Una R15 Non ho spazio Apriamo l'inventario Buttiamo via Questa pistola qua Buttiamo via I colpi Per Questo Droppiamo questo Droppiamo questo Ok abbiamo raccolto Abbiamo raccolto la pistola Ora Raccogliamo anche i colpi Perfetto ragazzi Perfetto Abbiamo raccolto quello che ci serve Ora che abbiamo un'arma Dobbiamo correre veramente velocissimi Perché la nube tossica Non risparmia nessuno Suonano le sirene A modi di seconda guerra mondiale Settore F6 Ragazzi 5 secondi Oh mio dio ragazzi È stata rilasciata la bomba tossica Adesso si avvicinerà Sempre di più Sempre di più Dobbiamo correre Verso ovest Oh mio dio Dobbiamo risalire anche questa parete qui Ma È veramente impraticabile Sembriamo essere finiti In un baratro della morte Dobbiamo cercare di risalire Arca vacca Non si riesce Perfetto Perfetto Forza Si sentono degli spari ragazzi Spari qua di fronte Quindi la direzione è quella giusta La nube è sempre più vicina Settore E6 Perfetto ragazzi Siamo dentro Siamo dentro ma Non è ancora abbastanza sicura Guardate qui che posto assurdo ragazzi È impervio questo Questo Zona Montuosa Questa zona Di lago Non so neanche come chiamarla Adesso possiamo anche permetterci di Rilassarci qualche Istante per Aguzzare la vista E cercare il nostro nemico Dobbiamo essere veramente dei predatori Dei cacciatori in questo gioco Bisogna guardarsi intorno Possono essere ovunque Camminiamo nella boscaglia Per essere individuati più difficilmente Ragazzi Lì c'è una casetta Una chiesa Possibile luogo di scontri Perché alla chiesa giustamente Si può trovare del loot Eccolo ragazzi L'avete visto L'avete visto anche voi Proviamo ad uccidere ragazzi Adesso bisogna stare veramente molto attenti Eccolo Sì ragazzi Perfetto Abbiamo ammazzato un'altra persona Col pompa Perfetto Perfetto Sardiamoci a terra Cerchiamo del loot Velocissimamente Vediamo se avrà qualcosa di interessante Un pompa Questa roba qua Che non ci interessa No va bene Perfetto Andiamocene via Andiamocene via Assolutamente Stiamo sanguinando Velocissimamente Curiamoci Con delle Vende Cazzo c'è una macchina C'è una macchina qua accanto Ragazzi Eccola lì ragazzi Una macchina che si è anche ribaltata Tra l'altro Non facciamoci distrarre dalla macchina Noi dobbiamo proseguire verso Ovest Che è il nostro obiettivo Siamo nel settore D6 Scendiamo giù Ok Dobbiamo recuperare la salute Usiamo un'altra benda Che non so se Funziona E ci farà recuperare Della vita Io spero di sì Allora siamo nel settore D6 E siamo Ok Siamo leggermente Decentrati Ma va bene Sarà uno scontro Molto duro Questo ragazzi Perché possono essere Leggermente ovunque Ok La bomba tossica Sta per essere rilasciata Perfetto Allora Mi sono impanicato Perché non so se quest'arma Spara A raffico Oppure no Nel dubbio Ho Sparato Sparato colpi singoli Ok Sentite che spari ragazzi 20 colpi E 20 persone rimanenti Va bene Siamo nella top 20 E' già Un buonissimo Risultato Con due uccisioni 19 ragazzi Se riusciamo ad andare Nella top 10 Nel primo video Sarebbe una gran figata Ragazzi Scrivetemi Nei commenti Cosa ne pensate Di questa modalità A me sta gasando Un proprio un casino Quello con la macchina Ragazzi Non ho voluto attaccarlo Perché avevo paura Che avesse la mazzana idea Di poi investirmi Guardate il cerchio Come si sta restringendo Ragazzi Dobbiamo avvicinarsi Al settore D7 Avvicinarsi Ho detto Però non importa No Non ci credo Mi sono distratto Un attimo E mi ha crivellato Non ci posso chiedere Una distrazione Fatta L'ho ammazzato anche io L'ho ammazzato anche io Vedete il suo cadavere lì morto Mi sono distratto un secondo Questa è stata veramente Molto brutta Come morte E Purtroppo Mai distrarsi Su questo gioco Ragazzi Siamo arrivati I diciannovesimi Battle like next time Quindi Avremo più fortuna Fortuna La prossima volta Sicuramente Me lo auguro di sì Io vi saluto Con questo video Perché è veramente È stato qualcosa di Devastante Mi ha messo Un'ansia assurda A questo gioco Spero che ve l'abbia messa Anche voi Perché è quello che volevo Trasmettervi La carica L'energia di questi Battle Royale Da Giamba è tutto Ricordo di passare Nella pagina Facebook E nei link In descrizione Dove trovate Tutti i miei social Andate In Mona Vi aspetto al prossimo video Bella raga Grazie a tutti